Bentornati a Ho ragione avvocato, una nuova puntata di ancora una volta, gradevolmente, con la nostra ospite, l'avvocato Carla Naldi, che la volta scorsa aveva iniziato parlando appunto della legge Cirinna, ma essendo una legge formata di un solo articolo e parecchi commi. Un solo articolo composto da 69 commi, un po' come una finanziaria. Non hanno permesso di raggruppare in un'unica trasmissione, grazie della disponibilità di ritornare. La prima parte, infatti, è stata dedicata tutta alle unioni civili. Adesso, invece, volevamo conoscere quelle che poi era un pochino il desiderio degli ultimi anni dei nostri assistiti, cioè quella di sapere se usciva una benedetta legge sulle convivenze. È uscita sia pure come seconda parte in mezzo a tutti questi commi della legge Cirinna, la numero 76 2016. Sì, infatti si parla di convivenze. Un tempo parlavamo di famiglie di fatto, abbiamo parlato anche dei famosi dico. Comunque, la legge Cirinna è stata approvata e i commi dal 36 al 69 si riferiscono alle convivenze. Ovviamente convivenze che possono essere sia eterosessuali sia omosessuali. E la prima parte riguarda la definizione, diciamo così, della convivenza. Quando una famiglia o comunque una coppia può dirsi coppia di conviventi, coppia quindi famiglia di fatto. E la definizione viene data dal comma 36 che dice Conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Direi che salta subito agli occhi un'altra caratteristica. Ovviamente non devono essere sposate, ovviamente non devono essere unite in un'unione civile di persone dello stesso sesso. Ovviamente non devono avere rapporti di parentela, due fratelli non sono conviventi anche se vivono nella stessa casa. devono essere unite stabilmente e quindi convivere unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. E in più devono essere maggiorenni. Quindi è un po' come quanto abbiamo detto la settimana scorsa in relazione alle coppie omosessuali che si possono unire in unioni civili solo se sono maggiorenni. Sì, a differenza, avevamo detto, del matrimonio che ci può essere l'emancipato. Nel matrimonio c'è l'eccezione del minorenne emancipato che in linea teorica si può sposare. Nelle convivenze di fatto e nelle unioni civili di persone dello stesso sesso questa è esclusa. Dopodiché si dice che nel comma 37 si dice che per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica. Quindi interviene ed è fondamentale l'accertamento anagrafico. I conviventi devono preliminarmente fare una dichiarazione di convivenza in comune. Dopodiché la norma, i commi, cominciano a disciplinare quelle che sono le caratteristiche, i diritti che emergono da questa convivenza diciamo così codificata dalla legge e sancita dalla dichiarazione di convivenza che si fa in comune. E il primo di questi diritti, io lo trovo abbastanza divertente, è quello che spetta al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario. Cioè fra tutte le cose a cui si poteva pensare, il primo dei diritti enunciati dal legislatore è il fatto che i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi stabiliti dall'ordinamento penitenziario. Quindi potranno andare a trovare il partner convivente e potranno anche avere, questo è un filino più importante o quantomeno importante come l'altra circostanza, potranno avere gli assegni familiari se il partner convivente in carcere lavora. Però insomma fra tutte le copie di conviventi che ho conosciuto nessuno mai mi ha sottoposto a questo problema. Sono dei casi limite questi. Chissà chi ha scritto questo commento. Sponiamoci questa domanda e non rispondiamo. Invece poi si parla di una cosa molto importante, vale a dire della possibilità del partner convivente di visitare e assistere e di avere l'accesso alle informazioni sensibili e personali in caso di ricovero del proprio compagno o della propria compagna. In realtà, questo è molto importante. Questo è importantissimo. Devo dire che comunque era una disciplina, in concreto è una possibilità che spesso viene attuata già negli ospedali pur non essendo prevista, pur non essendo stata fino ad oggi prevista. Salvo nel caso... Sì, perché ricordiamo che questo entra in vigore a giugno. È entrata in vigore nel giugno del 2016. Sì, per cui prima era un po' la scelta sindacabile dell'ospedale, probabilmente. Diciamo che c'era stata una normativa precedente che era la legge 91 del 99, quindi già piuttosto risalente nel tempo, che in materia di trapianti e di prelievi di organi prevedeva proprio esplicitamente la possibilità per il convivente di essere informato e di poter accedere comunque e di prestare assistenza in ospedale. Ma era solo quella legge che lo prevedeva. Adesso invece c'è una normativa ovviamente generale. In più c'è la possibilità, prevista esplicitamente dalla legge Cirinna, di nominare il proprio compagno, la propria compagna, come la persona che deciderà per noi, in caso di nostra incapacità di intendere e di volere, sia per ciò che riguarda l'eventuale donazione degli organi, sia per ciò che riguarda le incombenze funeratizie, eccetera. Per questa cosa è però necessaria una dichiarazione olografa, scritta a mano dal convivente, che dice io designo il mio convivente come persona che deciderà... Ma questo necessariamente all'inizio del convivente? In qualsiasi momento, però la legge lo prevede. Quello che ovviamente ha una rilevanza più concreta, più quotidiana, è il comma, i commi 42 e 44 che disciplinano il diritto di abitazione, che noi sappiamo essere un diritto anche riconosciuto costituzionalmente come un diritto fondamentale della persona. E questo perché la norma, per la prima volta, dice che il convivente, che non abbia figli, perché se ci sono dei figli, si applica l'articolo 337 Sexties del Codice Civile che disciplina proprio la casa coniugale o della famiglia di fatto. Ma in caso di mancanza di figli e di morte del convivente proprietario della casa, l'altro convivente avrà diritto di rimanere nell'abitazione, anche se non ha un titolo di proprietà, per un minimo di due anni o per un numero di anni pari alla convivenza, fino a un massimo di cinque. Se poi il convivente superstite ha dei figli propri, il minimo, la durata minima è di tre anni. Quindi, diciamo, c'è già questa disciplina che però, ripeto, riguarda le coppie che non hanno figli, perché se ci sono dei figli si applica invece la disciplina che noi usiamo in materia di separazione. Anche qui c'è da un lato un certo tipo di rimando e dall'altro una disciplina più specifica nella stessa legge. Che però era necessaria perché evidentemente in caso di coppie di conviventi di conviventi in cui solo uno sia proprietario dell'immobile, nel momento in cui muore l'altro non avrebbe più diritto a rimanervi. Ci sono degli altri commi che disciplinano, per esempio, il fatto che la convivenza costituisca titolo per l'acquisizione di case popolari, che disciplinano il diritto del convivente a partecipare all'impresa familiare dell'altro convivente. Una norma specifica che dice che in caso di decesso del convivente il partner ha diritto al risarcimento del danno, che è una cosa che da anni è riconosciuta dalla giurisprudenza, però che per la prima volta è stata codificata. E quindi direi una serie di diritti che comunque di default sono propri dei conviventi che sono riconosciuti come tali perché vanno in comune e fanno la dichiarazione di convivenza. Perché teoricamente potrebbero anche non farla. Certo, perché potrebbero anche non farla e a questo punto sembra proprio che questa disciplina non sia applicabile a loro. Gli ultimi comma di questo unico articolo mega esteso disciplinano i cosiddetti contratti di convivenza. Sostanzialmente i contratti di convivenza servono per disciplinare i soli rapporti patrimoniali e hanno delle caratteristiche particolari. Prima di tutto perché devono essere redatti appena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio e dal difensore. Il che significa che due conviventi non possono sul tavolo della loro cucina disciplinare per iscritto... Ma dal difensore cosa si interessa? Devono essere, devono avere un difensore. Assistiti, sì. Anch'io me lo sono chiesta. Via stragiudiziale. Cioè, difensore... Che tipo di procura ha il procura? Il difensore? Non lo so. No, beh, curiosa anche questa cosa da approfondire. Sì, è una disciplina... Con l'andare del tempo. Probabilmente perché ogni tanto prendono dei pezzettini e li trasferiscono così... Sì, diciamo che è esattamente la fotocopia della normativa sulla negoziazione assistita. Laddove l'accordo di negoziazione assistita deve avere la firma autenticata del difensore. Ma qui ha un senso. Sì, però lì c'è un accordo e tendenzialmente ognuno ha il suo difensore. Certo, è previsto. Però è previsto proprio un mandato specifico. Messa lì così rimane un po'... E' quasi un inizio di una lite quella. Sì, 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 infatti. Infatti, non solo è anche previsto che questo contratto possa avere efficacia nei confronti dei terzi solo se entro dieci giorni viene inviato dal professionista, quindi dal notaio o dal difensore all'anagrafe per la trascrizione. Il problema è il contenuto del contratto che francamente io per quella che è la mia piccola esperienza non trovo così innovativo perché sostanzialmente la norma dice che il contratto può contenere l'indicazione della residenza e vabbè, mettiamo per iscritto che abitiamo a Novara e non a Borgomanero. Le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune in relazione alle sostanze di ciascuno e alle capacità di lavoro professionale e casalingo che è sostanzialmente quello che prevede la legge, il codice civile o questa stessa legge in tema di unioni civili. e l'unica caratteristica è il regime patrimoniale nel senso che con questo contratto le parti possono scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni. Ovviamente se non c'è il contratto sono in separazione, se c'è il contratto possono scegliere la comunione dei beni e in questo caso avrebbe ovviamente senso, anzi direi che c'è la necessità di far iscrivere il contratto e quindi di rendere pubblico nei confronti dei terzi. Il contratto non può essere sottoposto a termini o a condizioni e il contratto perde efficacia quando cessa la convivenza. Perché non disciplina lo scioglimento di questa cosa. Un'ultima domanda avrei. Ci stanno ancora qualche secondo. Proprio qualche secondo, velocissima. Non ho pregato di essere... No, un'ultima domanda è questa e rivolta all'avvocato Costa Parvema. Lei, la sua moglie, dà del lei? No, mia moglie? Oh, sciocchini! No, io in certi casi, allora, mi permetti di dare del lei perché oggi ho sentito quasi un Alexio Magistralis anche la volta scorsa. Poi a casa riprendete... Mi pare che stiano arrivando delle telefonate chiedendo la sostituzione dei conduttori. quindi adesso dovremmo parlarne con la direzione di Videonovato. Ringraziamo Carla Nardi per essere stato con noi e vi diamo appuntamento alle prossime puntate di O ragione, avvocato. Grazie a tutti, buonasera. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.